Pericoloso, troppo pericoloso, senza luci da oltre due anni. Eh sì, perché le luci ci sono, ma dopo la loro installazione non sono mai state accese. È la situazione in cui versa il sottopasso di Centinarola in via Fanella a Fano. Diverse segnalazioni, la prima risale a settembre 2014, dove residenti e automobilisti lamentavano la scarsa luminosità e l'alta pericolosità per chi è in bici o a piedi. Il sottopassaggio da quasi due anni è completamente buio, a piedi, in bicicletta, per le persone che vanno a scuola, vanno al lavoro, tutti gli sportivi che vengono verso le colline di Montegiova, il prelato a correre. È completamente buio, quindi di una pericolosità estrema. Dopo i lavori di ampliamento della terza corsia dell'A14, Autostrade per l'Italia, oltre ad aver allungato i sottopassi, ha installato diversi fari ad alta potenza sotto il ponte. E così, senza pensarci un attimo, alcuni abitanti della zona hanno contattato Comune e Polizia. Allora, di questa cosa sono informati sia il sindaco, Massimo Seri, che il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Serretti. Hanno preso atto della cosa, ma non si è ben capito di chi sia la competenza. Da informazioni ricevute sappiamo che c'è stato un ingegnere che ha fatto una progettazione di lampade. Forse le lampade sembrano che siano troppe, per cui il Comune non è intenzionato ad accenderle tutte. Da ricordare inoltre che nella stessa situazione versano i sottopassi di Rosciano e Sant'Orso. Se dovesse succedere un incidente serio, speriamo di no, qualcuno dovrà risponderne. Quindi accertare di chi sono le competenze e di avere una risposta concreta in merito in tempi brevi.